Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi appuntamento con una rubrica inedita. Difatti l'altra volta avevo portato le tattiche di Anders Vergan, ragazzino danese, bla 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 bla, ormai siamo imparati la canzone. E devo dire che il video è andato veramente tanto bene, quindi ho pensato perché non trasformarlo in una sorta di serie dove andiamo a revisionare un po' le tattiche dei pro in giro per il mondo. Quindi eccoci qua in Play Like a Pro, pensato di chiamarla così, e oggi per questo secondo barra primo appuntamento ufficiale andiamo a revisionare le tattiche di Tex. Insomma, un altro player che non ha bisogno di presentazioni, a mio modo personale di vedere, ma manco troppo, miglior giocatore di FIFA nella storia per tutto quello che ha vinto e ha dimostrato. Gli manca magari la vittoria di un mondiale vero e proprio, ma visto che ormai tutti gli eventi dal vivo sono della sorta di mondiali, insomma, è un titolo giusto che gli manca per coronare il suo palmares, ma credo sia in dubbio riconoscere a Tex quello che ha fatto fino ad ora e sicuramente continuerà a fare. Sapete bene che io queste tattiche le rubacchio semplicemente aggiungendo agli amici il player in questione. Sapete che se andate su partita cooperativa offline, perché mi avete chiesto come vederlo, con due pad potete mettervi nel lato dell'avversario e vedere sua squadra e tattiche. Quindi, cambio di scena e ci ritroviamo in game. Questa è la squadra che credo andrà a utilizzare anche per tutti i prossimi tornei, ovviamente salvo vari upgrade, almeno per quelli del momento. Allison tra i pali, Mandy Varangome, Ziff, Walker, Viera Bruno89, Ronaldo il Ciccione, Neymar Mappé e San Maximen. Sapete o non sapete che il modulo, tra virgolette, preferito di Tex è il 4-2-3-1, quindi il primo modulo che andiamo a guardare è il 4-2-3-1. Per quanto riguarda le tattiche, vedete che sono abbastanza standard, utilizza Equilibrata 5-4, ed è uno stile difensivo che ho utilizzato anche io per lungo tempo. E che cosa vi permette di fare? Ah, potete sia difendere alto, uscendo magari in maniera un po' più aggressiva, cosa che fa lui, ma potete anche difendere un po' più basso, anche al limite dell'aria, se magari l'avversario, diciamo, vi fa soffrire un po' di più. Quindi è uno stile di gioco difensivo versatile, a seconda sia del vostro stile, sia degli avversari. Per quanto riguarda l'attacco, utilizza anche qui Equilibrato 5-4. 5, perché con il 4-2-3-1 vogliamo comunque che i trequartisti siano abbastanza larghi per creare, insomma, azioni pericolose, ma andiamo anche a fare tanti scambi stretti tra di loro. Giocatori in area 4, per non esagerare, visto che solitamente gli scambi avvengono fuori dall'area per poi sfruttare gli inserimenti, e angoli e punizioni abbiamo 2-2 per evitare di prendere imbarcate in contropiede. Passiamo alle istruzioni, che sono molto curioso perché non le ho viste neanche io. Abbiamo al portiere nulla, resta dietro ai due terzini, quindi classicone. Resta dietro, copri al centro, a entrambi i mediani, altro classicone. Per quanto riguarda i COD e COS abbiamo rientra in difesa su entrambi, senza entra in area per il cross. Rientra in difesa anche per il COC, strano. Solitamente tutti quelli col 4-2-3-1 mettono rimani avanti, altri è quartista perché deve rimanere riferimento davanti. E poi abbiamo invece rientra in difesa anche su R9, quindi Tex che al momento sta utilizzando tattiche anche abbastanza difensive. Perché ricordo perfettamente che l'anno scorso utilizzava sì, rientra in difesa un po' a tutti, ma comunque qui invece andava a utilizzare rimani avanti e qui inserisciti alle spalle. Per quanto riguarda poi un altro modulo che per forza di cose starà utilizzando è il 4-4-2. Modulo anche questo che utilizzano un po' tutti. E andiamo a vedere le tattiche. Utilizza in questo caso equilibrato 5-5 per sfruttare magari qualche recupero palla un po' più alto, innescare contropiedi che col 4-4-2 sono molto più fulminei. E 5-5 anche in attacco visto che comunque il 4-4-2 avendo un attaccante in più ha un tipo di gioco che si va a dipanare molto di più all'interno dell'area di rigore con scambi sì, ma all'interno dell'area. Angoli 1-1 anche qui per evitare contropiedi. Vedendo quelle che sono le tattiche precedenti io mi aspetto un resta dietro in attacco ai terzini, cosa che effettivamente accade, resta dietro e copre al centro i mediani e così mi aspetto un torna dietro a questo punto in difesa, no, cosa no, invece agli esterni non mette nulla, come faccio anche io, mentre alle due punte anche qui assolutamente nulla, non va a mettere inserisciti alle spalle, evidentemente per evitare che gli scappino senza appunto lasciare la possibilità al buon Tex di avere dei riferimenti. Quante volte è capitato che magari vi finiscono in fuorigioco eccetera, come inserisciti alle spalle, però dall'altro lato vi capita anche spesso che come inserisciti alle spalle vi porta via l'uomo, quindi insomma, cosa molto molto buona. Poi abbiamo il 5-2-1-2 che è il classico modulo per difendere che ci vediamo dopo, andiamo a guardare invece il rombo largo, tra l'altro, quello con gli esterni, modulo che immagino sia il modulo da arrembaggio, di fatti abbiamo ampiezza 5 con profondità 8 proprio per recuperare le partite, in attacco abbiamo equilibrato 5-4, visto che comunque si tratta del rombo quello largo e non stretto, quindi l'ampiezza 5 ci sta. Per quanto riguarda le istruzioni abbiamo resta dietro in attacco a entrambi i terzini, resta dietro in attacco copri al centro al mediano, nulla ai due esterni, al COC abbiamo ancora una volta nulla, abbiamo stavolta invece inserisciti alle spalle, rimani al centro su Neymar e rimani al centro invece sull'altra punta, quindi è un po' una sorta di schema che permette a un attaccante di fare riferimento e all'altro invece di inserirsi portando magari via l'uomo, ed è un modulo che utilizzerà sicuramente per recuperare le partite, è molto buono. Per quanto riguarda invece il modulo che gli permette di difendere i risultati, è il 5-2-1-2, un modulo un po' inusuale, perché comunque si ti fa mettere il pullman, ma credetemi va saputo usare, e in difesa abbiamo equilibrata stavolta 4 per stare molto più compatto e 5, quindi un valore standard, e in attacco proprio classica tattica contropiedista con palla lunga, ampiezza 5-5, angoli 2-2, perché palla lunga permette ai vostri giocatori di inserirsi e di scattare non appena si recupera il pallone. Tattiche e istruzioni immagino stra-difensive, no? Incredibile, abbiamo attacco equilibrato sui terzini, in modo tale da non avere una squadra troppo schiacciata, ma avere anche qualche opportunità per ripartire, resta dietro ai terzini, ai difensori centrali, e ancora attacco equilibrato anche all'altro terzino. Ai due mediani resta dietro in attacco, copre al centro, al trequartista non abbiamo nulla, alle due punti abbiamo rimani centrale e rimani centrale, quindi punte che ovviamente in questo modulo devono fare da riferimenti, per una squadra attrazione totalmente difensiva, anche se quei terzini liberi mi hanno un po' sorpreso, mi aspettavo un po' più bunker, però ci sta anche perché altrimenti si andrebbero a scollare un po' troppo i reparti. E nada ragazzi, queste tattiche, devo dire la verità, sono, diciamo, classiche, con qualche sorpresa che non mi aspettavo. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere se questa rubrica può interessarvi e se portarla avanti, perché altrimenti è inutile, io porto i contenuti che vedo che vanno bene e che vedo che vi possono, insomma, suscitare un interesse. Lasciate un bel like, in tal senso, se il video vi è piaciuto, commentate per l'appunto, e ricordatevi di iscrivervi al canale, perché stiamo crescendo e mi fa strapiacere. Io per oggi vi saluto, vi auguro una buona giornata e mi raccomando, fate bravi. Ciao ciao!